Ciao ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video. L'obiettivo di questo video è rispondere a quelle che sono le vostre domande che negli ultimi mesi ci avete fatto sia via email e sia sotto alcuni post, sia all'interno del gruppo Facebook Aste Giudiziarie Strategi, sia sotto qualche video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube e se volete essere aggiornati sui prossimi video, iscrivetevi anche cliccando sulla campanella qui in alto a destra. Iniziamo subito con la prima domanda. Se acquisto l'immobile in asta ma poi l'esecutato sostanzialmente non vuole andare via dall'immobile, come si può risolvere questo problema? E' chiaro che così come aiutiamo i nostri clienti a evitare questo problema prima di partecipare in asta, lo facciamo anche con i nostri studenti, cioè che spieghiamo esattamente come si fa a evitare questo problema, perché la procedura è molto diversa, cioè non bisogna partecipare in asta e poi affrontare questo problema, ma bisogna invece affrontare questo problema prima di partecipare in asta. Come vedete, il fatto di dover fare un'analisi e un'indagine prima dell'asta è molto più importante dell'asta stessa, perché come dico sempre, non è importante e non è l'unico punto di forza il prezzo, perché dietro ci possono essere tanti di quei problemi. Non a caso seguiamo tanti clienti che si affidano a noi per comprare un immobile all'asta, così come si affidano clienti per cancellare i propri debiti. E riusciamo a mettere in armonia queste due figure, cioè chi sta perdendo la casa e chi vuole invece comprare quella casa. È chiaro che l'esecutato deve andare via, ma non avete idea di quante volte potete imbattervi in situazioni in cui non si è fatto un lavoro a monte, ci si trova poi ad affrontare questo problema dopo che si è comprato l'immobile e ci si trova non solo in alcune situazioni dove bisogna andare con la forza. Fortunatamente noi non abbiamo mai affrontato questo problema perché utilizziamo un protocollo di partecipazione completamente diverso da tutti gli altri ed è per questo che ci distinguiamo da tutti gli altri e questo lo faccio sin dal 2010. Quindi non ci siamo mai imbattuti in una situazione di forzatura nel far uscire il debitore, questo lo lasciamo fare agli altri. Però questo è ciò che può capitare a tante persone e sicuramente potrà capitare a qualcuno di voi, a chi partecipa in asta, ha comprato un immobile, casomai vi siete anche voi trovati in questa situazione qua. Ma a parte l'opposizione che può essere fatta fino a un certo punto da parte del debitore, perché poi, ripeto, c'è la forza pubblica, ma a parte questo, e per il quale, apro e chiudo parentesi, sono assolutamente contrario ad utilizzare questo strumento e credo che ormai mi conosciate e l'avete capito, Ci sono altre situazioni in cui vi potete imbattere, ovvero l'opposizione alla giudicazione, cioè vi potete imbattere in quella situazione dove per entrare in possesso dell'immobile avete bisogno di svariati mesi. Già sappiamo la burocrazia italiana quanto è lenta per il decreto di trasferimento, eccetera, eccetera, ma poi dovete entrare in possesso dell'immobile e quando state per entrare in possesso dell'immobile dovete anche valutare se ci sono delle condizioni tali che vi ostacolano all'entrare in possesso di quell'immobile. Può essere un carone di affitto, antecedente al pignoramento, come può essere l'invalidità di una persona. Quindi tutte queste cose in realtà vanno affrontate prima. A me è capitato durante queste settimane di una persona che stava perdendo il proprio immobile in asta, ci ha contattato purtroppo troppo tardi e io vi consiglio di contattarci per sistemare la situazione debitoria molto prima che l'immobile va in asta. O se l'immobile in asta contattateci subito, ma non contattateci se l'immobile va in asta fra un mese perché siamo troppo sotto. Siamo stati contattati da questa persona a ridosso dell'asta che ormai era presumibilmente, credo, un 30 giorni, cioè più o meno, 30-40 giorni, quindi troppo sotto. Cosa è successo? È successo che non abbiamo potuto fare ciò che volevamo fare, cioè cancellarli la debitoria e dargli una mano, quindi evitare che l'immobile venisse svenduto in asta, facendo direttamente noi l'investimento. Non è stato possibile farlo e l'immobile è andato in asta, ma chi se l'è comprato non ha valutato una cosa, che prima di entrare in possesso di quell'immobile dovrà affrontare una trafila, caso mai, delle cause troppo lunghe perché chi è all'interno è una persona invalida, in realtà sono due persone invalide, marito e moglie, fanno all'interno la dialisi, cioè sono problematiche che affronteranno e per far uscire queste persone, caso mai è ovvio che non è compito di chi ha comprato l'immobile far uscire quelle persone, sarà compito della curatela, sarà compito del delegato alla vendita del tribunale far uscire quelle persone, ma chiaramente gli avvocati di queste persone inizieranno a fare opposizione perché all'interno ci sono delle persone fragili e nonostante la giudicazione dell'immobile potrà andar via tanto tempo. Questa è una delle problematiche che vanno affrontate in realtà prima di partecipare all'asta. Poi è chiaro, se all'interno dell'immobile ci troviamo delle persone che occupano quell'immobile senza titolo, lì sarà più facile, oppure se l'immobile è completamente vuoto, lì non ci saranno problemi, ma dovete valutare quando l'immobile invece è occupato, a che titolo è occupato. Bisogna fare queste indagini, quindi vi consiglio sempre di fare un lavoro a monte che sia più grande della partecipazione. La partecipazione è l'ultima cosa da dover fare. È chiaro che l'aspetto più fondamentale da leggere, da prendere in considerazione, è la perizia, perché la perizia è, come vi dico sempre, la carta d'identità, ma oltre alla perizia poi vanno fatte delle indagini più approfondite, vanno fatte delle indagini più meticolose, che in qualche modo vi tutelino nel momento in cui voi andate a comprare l'immobile e quindi ve lo giudicate. Provate a pensare se c'è il diritto di assegnazione nei confronti del coniuge, dei vecchi proprietari. Lì è un altro problema che poi dovete affrontare mettendo in piedi una causa legale. Quindi occhio a quando partecipate. Se avete bisogno, qui sotto trovate sempre dei contatti che vi permettono poi di avere una nostra consulenza, di farvi accompagnare durante tutto l'iter in maniera sicura. Così sapete che quando comprate l'immobile siete certi di entrarne in possesso senza problemi. Un'altra domanda che ci avete posto è in merito alla nuda proprietà. Alcuni si chiedono che cosa è, alcuni si chiedono come funziona. Sostanzialmente quando, allora se dovete comprare l'immobile per andarci a vivere, quindi l'immobile in asta, e c'è nuda proprietà tra le righe della perizia o dell'avviso di vendita, fate clic e andate avanti. Perché voi tecnicamente se vi aggidicate l'immobile potete sia entrare in possesso dell'immobile sulla carta, ma non di fatto, perché voi siete i proprietari, ma chi godrà di quel bene saranno altre persone, saranno terze persone. Poi è chiaro, bisogna valutare caso per caso, ma generalmente se trovate nuda proprietà e dovete andarci a vivere, fate clic e andate avanti. Se invece è un investimento a lungo termine, ci può stare, potete assolutamente partecipare. Un'altra domanda è quella relativa, per esempio, al mobilio all'interno di un immobile. Cioè quando si compra un immobile in asta e ci si aggiudica questa casa, ciò che è all'interno fa parte della vendita o non è di nostra proprietà? La risposta è ciò che è all'interno non fa parte della vendita. Cioè, per farvi un esempio, l'arredo non rientrerà tra l'acquisto dell'immobile. Quando viene venduta una casa, vengono vendute le mura, viene venduto l'immobile nudo, quindi senza nulla all'interno. Poi è chiaro, se viene lasciato qualcosa all'interno o deve essere applicato un articolo di legge che va, anche se a volte è inutile applicarlo, eccetera, eccetera, ma sarà sempre delegato alla vendita o ad occuparsi di tutto ciò, bisognerà fare in modo e accertarsi che, e accertare con documenti alla mano, che quell'arredo non è più voluto da parte del debitore, quindi sarà il nuovo proprietario a decidere cosa farsene sostanzialmente. Cioè, se mantenerlo o se liberarsene completamente, a volte a proprio carico, quindi valutiamo anche questo. Ma quando si compra un immobile non si può pretendere di avere ciò che è all'interno, così come perché compriamo solamente le mura. Se poi il mobilio che è all'interno deve essere venduto, sarà sempre il tribunale a fare questa procedura, attraverso una vendita mobiliare in asta, ma non possiamo essere noi a vendere ciò che sta all'interno, o comunque voi, intendiamoci. Quindi se vi è capitato qualcosa del genere, avete delle domande, altre domande aggiuntive, o delle domande inerenti a queste tre che abbiamo chiarito all'interno di questo video, commentate qui sotto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube. Se avete necessità di contattarci, qui sotto nella descrizione in basso trovate dei link che possono esservi utili. Potete contattarci assolutamente, il nostro staff poi vi contatterà, per valutare caso per caso, e casomai per aiutarvi o a comprarli immobili in asta, o se avete il problema del debito, ad aiutarvi a cancellare la debitore. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.